Ragazzuoli, mi sento male. Io mi aspettavo di trovare una megacassa. Vado nel negozio posto aggiornamento, sei megacasse da aprire col tortellone! Ciao, torti! Ehi! Bella a tutti, ragazzoni! Ragazzi, questa è la volta buona. Non me ne frega niente, devo uscire un nuovo brawler. Mi accontento anche di Bea, che l'abbiamo incontrata su qualche partita prima del video. Ancora OP, nonostante il nerf, fa impressione fortissima. Voglio Bea, segui tutto quanto l'episodio perché l'apriremo durante questo episodio. E vi ricordo che il tortellone è a 5 sul suo account. Passate al primo link in descrizione e fate l'iscrizione perché vedrete il suo video. Almeno non ve lo perdete, conto su di voi. Però, prima di cominciare, se vi piace l'aggiornamento, se vi piace il brawler, un bel pollice all'insù. Se arriviamo a 15.000 like, vi prendo un'itacoala e colgo l'occasione per dirvi che, ovviamente, nel negozio sono tornate a sconto con delle offerte fuori da testa, quindi non fatevi sfuggire, le skin del Capodanno Lunare 2019. Shoppatele col codice Grax! GraxGS non è vero, né grano né graz, ma GraxGRAX. Taggatemi su Instagram che già mi avete distrutto il telefono, c'ho tipo 150 tag, regà. Siete fuori da testa. Io vi ringrazio per avervi il supporto. Domenica alle 21. Non prendete impegni, mi raccomando, perché vi posso regalare, in anticipo sul tempo, le skin arcade. E fidatevi che ne varrà la pena. Io ve lo dico. Ci divertiremo veramente tanto. Vai Tortillon. Prova il push. Dobbiamo vincere almeno una, ragazzi. Queste sono le prime partite che facciamo in assoluto in questa modalità. È veramente sexy. Però certo, se te becchi in ascelli... Guarda come li busta! Sono impossibili da prendere. Sapete che è una buona comp? No, ma che fatti! È una buona comp. Tortello, devi giocartela bene. Non mi può potenziare tutti in velocità. Ma quanto sopporti! Non riusciamo neanche ad entrare, ragazzi! Buona la scelli che va giù, taggatemi. La ricopriamo magari in per due. Il problema è Ems, ragazzi. Io sto colpendo e provando a fare delle cose. Tortellone ha messo la torretta. Stanno a 11-0. Ci hanno massacrato. Rosa prova il push. Vabbè, ma sono bustati. Ma che ci inventiamo queste bustate? Prova l'ulti! Ulti su Ikea! Uccise Ikea! Io ho rotto un mobile. Ma sei fermato pure Cuba! Ma non te puoi fermare Cuba! È tornato Cuba! No, vabbè, che stai a dire. Io ti dico che sul per due famo 20 stelle torte. Te lo dice il Grax. Te lo dice il signor Grax. Però secondo me 8-bit è un po' un problema. Ti consiglio di mette qualcos'altro dopo. Cioè, io non ci sto a credere. Ci hanno massacrato, ragazzi. Così, ho messo 8-20. Ma hanno messo persone che si abbustano con la velocità. Cioè, veramente. Gli fanno fare il record della vita. Rosa va giù, non lo so se scioglie, Rosa. Stavo dicendo, quando vinciamo con Tortello, non prendiamo niente. Io spero che questa sia la volta buona, ragazzi. La volta che me va bene. Oh, fermi che ci fanno un punto, una stella? Neanche quella. Vabbè. Ma che è? Ma il treno scegli, ragazzi, per madonna. Ci hanno fatto 33-0. Così, ci stanno a guardare, non ci sto a credere. 35-0. Già noto che Brock non è un granché, quindi provo a fare dei change. Tortella messo rosa. Cambio di scena. Io vado di Jesse, perché Jesse con danno e concatenato, essendo tutti quanti un po' stretti, secondo me può funzionare. Se perdiamo con Pocho, Pam e 8-bit, che sono lenti, quanto una quaresima, ragazzi. Io giuro impazzisco. Noi abbiamo due tank. Cioè, fatemi capire com'è possibile perdere una partita del genere. Giù l'8-bit e dai che ci fanno 33 noi. Adesso ci facciamo i 33 noi, ragazzi. Eh, però c'è pure la curetta mistica. Adesso ci facciamo i 33 noi, raga. Pronti? Abbiamo il centro. Prendere il centro diventa difficile. Ottima la torretta. Arriva Pam. Danni concatenati. La mia torretta fa impressione. La mia torretta fa impressione. Una volta preso il centro diventa difficile per gli avversari fare cose. Però certo, la cura del Pochus. Oh, guarda quel colpo, ragazzi. Buono. Non provare a contendere il posto, zio, eh. Non ci provare mai. Ma qui è il record. Adesso è il record. Eh, ma quelli di prima sono partiti meglio di noi. Guarda che non si avvicinano nemmeno. Io direi di farne tre, ragazzi. Almeno facciamo cose. Si sono fermati. Poi i record. Certo, se gli avversari si fermano e ammettono la supremazia dell'altro team è un problema perché non diventa una modalità sexy. Devo capirla, devo capirla. Secondo me può funzionare, eh. Può funzionare perché bisogna pushare sempre i compatti al momento giusto. Battiamo il record degli altri, secondo te? Secondo me no. Non lo so, ma qui... Avevano fatto 35. Stiamo facendo cose mistiche. Vai che va giù, pam. Ok. Occhio all'8-bit. Basta un colpo sull'8-bit. Preso e portato a casa. Basta che sta al centro. Adesso arriva al per due. Quante stelle si fanno in 30 secondi? Guarda che facciamo il record di prima, dai, 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 dai. Non contendere, non contendere. Occhio al pocio. Non contendere mai la vita. Occhio al pocio. Eccola. Sì, voglio il record. Voglio il record. Grande Shelly, rimani sopra. 36, vero? 35. Sì, abbiamo fatto degli altri, ragazzi. 36-0. E adesso facciamo la bella. Oh, anche MVP. La comp funziona, ragazzi. Jesse, top. I tank sono top. Facciamo l'ultimo. Questi sono interessanti. Shelly, Colt, Jesse. Abbiamo pocio. Wait. Molto bene. Molto, molto bene. Colpo, ragazzi, tattico. Però, se entrano i loro colpi, non riesco a concatenare. E infatti ci hanno fatto malissimo. Ci hanno fatto veramente malissimo. Veniamo da una vittoria. Occhio, sbam. Doppio danno. Buono il pocius. Vai così, vai così. Tripla. Bene, bene, arrivo qui. Sì. Te la sento oscura. Mi piace questa modalità, ragazzi. Spero che diventi competitive. E soprattutto che la lasciano. Ben, 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 ben. La devono lasciare assolutamente. Non ho perso un attimo. Vai, che li massacchiamo grande il tortillon. Sì, buono. Ho messo una torretta tanto per... Non vorrei morire. Sono morto. E forse la recuperano. Però se Bosser contende e cura... Eh, ma bisogna pushare, ragazzi, tutti insieme. Questa è una cosa bella. Non bisogna mai andare singoli, perché se si va singoli... Poi subisci i danni dagli avversari. Ok, questi sono ottimi danni per me. Se stanno compatti, ragazzi, posso fare delle cose. Colte va giù. Buono, buono. Molto buono. No, stacca la torretta. Lo so, lo so, lo so. Ce sto a provare. Torretta messa. Ok. Dai. 9-7. 7-9. Bene. 10. Ma che spettacolo, ragazzi. Che topping. Attenzione, però, che qui... Ok, vai. Torretta che arriva. Sì, ciao. Easy. 12-7. L'importante è rimanere sopra per il per due. L'importante è rimanere sopra per il per due. Dopo... Vien da sé. No, Scelli, maledetta. Rimani, tortelloni. Un colpo. Grande il Tordillon. Abbiamo vinto pure questa. E' andata. Che spettacolo di modalità. Serve la comp giusta. Non tutti i brawler possono giocare in questa modalità, ragazzi. Non tutti i brawler servono danni di massa. Servono danni concatenati. Danni seri. E' una cattivoria. E vai di 30 stelle. No, non l'abbiamo fatta, 30. Abbiamo... 29. 29. 30. 30. Nominazioni. Buono, rega, buono. Peccato per la prima, ma era di riscaldamento. Tortella è il momento. Può succedere di tutto, eh. Può succedere di tutto. Se esci un brawler, io voglio il letto rotto. Sei pronto? Considerate, a me mancano. 3 star power e ben 5 brawler. 2 mitici. Un epico e 2 leggendari. Io vado con l'apertura. Sono andato, ragazzi. Sono partito. Prima mega cassa. 5 skip. 5 skip. E di solito dalle casse gratis non si trova mai niente. Ma io sono fiducioso perché col tortellone siamo in tripla serie positiva. DB più 8. Eugenio più 8. Tara più 20. Bene. Comunque ci facciamo un sacco di punti energia. Buonissimi. 31 per mortis. Ems 68. Fino a qui, ragazzi, tutto regolare. Questa è la prima. Vai. Di seconda mega cassa. 5 skip. Ti prego, dammi bea. Ti prego, dammi bea. Ems. BB. Mortis ancora molto bene. Tara 45. Ok. Biglietti. E gemme. Terza mega cassa. Il 3 è il numero perfetto. 5 skip. Ragazzi, non è possibile. Cioè, con il tortellone, con quelle lì scioppate, con i punti stellari, ci ha dato il mondo. Ma questo non c'è da niente. No, eh. 8 bit più 9. Mi sa che l'abbiamo maxato. No, no, ancora. Sono quelle gratuiti. Ems più 12. Mortis più 21. Ma io ho visto che l'hanno trovata tutti. Hanno trovato tutti. Non molla, non molla. Dai, Grax, tieni duro. Più 34 di BB. Tara 42. Gemme. Ne mancano due, ragazzi. No, ne mancano tre ancora. Calmi, ne mancano tre. Tre, tre, tre. Sai skip? 5 skip, è impossibile. Ma è una truffa. È una truffa. 180 de oro, 12 Ems. Sandy, Eugenio, 8 bit 37, Tara 53. Bene per i punti energia, ma mi serve oro e mi servono 6 skip. Ultime due, 6 skip. Ma come 5? Ma come 5, torteo? Non è vero, ragazzi, no. E' una truffa pure a me. Ma è una truffa, veramente? Cioè, fatemi sapere come vi è andata, ma questa è una truffa, ragazzi, senza arma, proprio. Più 35 di morti. Sono sempre quelli che escono. Un biglietto per gli eventi. Un biglietto per gli eventi. Questo è l'ultimo. Ma l'altro, 199 monete è un insulto. Ultima, ragazzi. Ti prego, ti prego, ti prego, dammi se è skip. Ti prego, se è skip. Ti prego, se è skip. Non ci posso credere, no, non ci voglio credere, 5 skip. Ma che è stato a dire, gà? Non vedo il lancio di tortello. Cioè, sì. Non c'è, ma poi mi hai lanciato sotto? Sei il megacassi di nulla. Sono punti energia che sono un buato. Ma poi 199 di oro, veramente? Ma dove? Dove 199 di oro? Eugenio, che lo possiamo livellare? Tara, 62. Ma è finita così, davvero? Dimmi che c'è un'altra. Rapina, bella e buona. Sei il megacassi di nulla. Nulla. Andrà meglio al tortellone, spero, raga. Passate al primo link in descrizione. Iscrivetevi in codice Grax. Mi raccomando. Lasciate un pollicione e vi ricordo, domenica alle 21 succederanno delle cose. Vi darò le skin gratis. La cosa bella è che con tortellone troveremo 6 skip, io so sicuro, quando ci daranno la megacassa del fine season. Quindi rimanete sintonizzati perché apriremo con il tortellone. Che succede? Un bacio, grazie a te! Ciao! Grazie a voi, ciao a tutti! Un bacio enorme, ciao ciao!